Riceve il passaggio di ritorno, vuole andare al passaggio, ancora per Fagioli, si torna dal numero 18 che va ancora al destro e Urbini ci mette la mano e la mette in corner E' pericolosa del numero 18 della Venere che batte corto, Anello fa scorrere Fagioli, dimenticato totalmente dalla difesa del Blisseur, porta in vantaggio la Venere in bichini Torna da Anello, si va da Sevieri, di nuovo Anello, avremo anche lo spazio per concludere ma invece ancora dentro da Fagioli, buono il controllo con la palla incollata al piede di Fagioli che dà ancora a Manozzi il sinistro di Manozzi La Venere in bichini fa una grande azione, fa soprattutto il gol del 2 a 0 e la conclusione all'ex Checco dello scapicollo, Manozzi su Fagioli, il controllo non è buono ma Fagioli brucia l'avversario, trova la doppietta personale, trova il 3 a 0 della Venere in bichini Sevieri se la porta sul destro, Sevieri, il suo slalom, Sevieri arriva al limite, Sevieri viene toccato da dietro, l'arbitro vede, si, il calcio di punizione Sevieri ed Anello Parte Sevieri, una botta di potenza del numero 92, ha giocato bene sinora, ora anche calato il poker per la Venere in bichini La posizione di un compagno, va a destra dove Anello gode di una certa libertà, anche per andare al destro Urbini, dopo una deviazione va a mettere in corner Andare ancora da Sevieri, pensa al tiro, poi il piattone per Anello, al lato corto Anello vuole sfidare oltre Marini, torna ancora da Sevieri, si gira Sevieri Ce l'ha sul sinistro, Sevieri, ancora lui, Federico Sevieri, secondo gol straordinario della sua serata, è il 5 a 0 della Venere in bichini Sta facendo una gran carriera nel full sale, si è fatto già apprezzare con la maglia del bliss, attenzione a Lama Il colpo di testa, pochi centimetri dall'incrocio dei pali Rinvio lungo di Rossi Maramao stacca di testa, solo per un attimo, da dietro Anello, il cross rasoterra C'è la ruffa che può prendere addirittura la mira per il 6 a 0 della Venere in bichini Perché deve rimettere con le mani, dentro l'area, Lama la sponda per Gavioli, il suo palleggio Dentro l'area Gavioli si gira la grande Rossi, due volte e tre volte Poi Mirko Cherchi, il gol della bandiera del Bliss Eur, che l'ha cercato tante volte in quest'azione A gran spazio, 3 contro 3 della Venere Colizzi la dà alla ruffa, c'è largo Manozzi, viene servito, Bliss che deve inseguire Manozzi che entra in area stavolta, davvero non può sbagliare È il gol del 7 a 1 della Venere in bichini Bene Remoli Remoli il destro Che spiove sopra la traversa di Rossi, proprio quando il direttore di gara fischia per tre volte Finisce qui, 7 a 1 per la Venere in bichini In casa delle Bliss Eur, Venere che quindi può continuare alla grande Col vento in poppa, nonostante le essenze e la propria corsa verso i playoff Bliss Eur che dovrà giocare in tutt'altro modo nelle ultime due giornate Se vorrà avere qualche speranza di salvarsi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti